Grazie a tutti. E' uno spazio che però il giornale vuole dedicare soprattutto allo scambio di esperienze. Ci ha fatto molto piacere vedere che già sul blog si è aperto il dibattito e peraltro il dibattito si è aperto moltissimo in redazione. Stanno arrivando molte lettere ma tutta la redazione si è animata su questo questionario. E lo trovate su questo numero di grazia. Un primo esempio, sono soltanto tre, ci vorrebbero pagine e pagine in realtà per inserire tutti i vostri commenti, e un primo assaggio, una pagina appunto di lettere in cui le donne si raccontano. Quello che mi ha molto colpito è che un po' la forza di questa inchiesta è che c'è davvero voglia di parlare. Se c'è un dubbio che avevamo su questo questionario era che 50 domande ci sembravano tante. Siamo tutte molto affannate, abbiamo tutte sempre pochissimo tempo e quindi l'idea di chiedervi un impegno come stare seduti davanti al computer e rispondere domanda per domanda sì e no a 50 domande ci sembrava tanto. E invece i vostri commenti non solo ci hanno rincuorato ma la cosa interessante è che molte di voi dicono che anzi ci sarebbe molto più da dire. Che un sì e un no spesso non basta a intendere tutte le sfaccettature appunto della vita sessuale e anche, permettetemi, della vita sentimentale delle donne. E quindi ecco, questo è uno spazio in più che il giornale dà ai commenti, alle esperienze e al racconto, al piacere appunto di scambiarsi idee su questo argomento.